Musica Benvenuti ragazzi qui parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News spoiler e altro Sono tornato ragazzi con una notizia davvero che fa ridere sotto un certo punto di vista ma è veramente interessante Perché a quanto pare ragazzi The Walking Dead è indagata per troppa violenza Ovviamente ragazzi ne discuteremo meglio in questo video e il link dell'articolo da cui ho trattato questo video lo trovate in descrizione Perché ovviamente ragazzi l'ho trattato da un articolo il quale trovate il link in descrizione Partiamo subito con il video La scena brutale di Negan nella 7x1 vabbè nel primo episodio della settima stagione mette nei guai The Walking Dead Perché dico questo? Perché sicuramente come avete letto dal titolo The Walking Dead indagata per appunto troppa violenza Vediamo la scena quella lì famosa della settima stagione dove muoiono purtroppo Glenn e Abram Diciamo la Ofcom che sarebbe una diciamo un'azienda che investiga insomma da quello che ho capito non so chi sia Però comunque sia sono un gruppo appunto di investigatori che investigano appunto stanno investigando appunto su quella che è la violenza Della scena diciamo del primo episodio della settima stagione di The Walking Dead Perché a quanto dicono loro praticamente la scena è troppo violenta O meglio non dovrebbe essere trasmessa a quell'orario e in quella troppa punto violenza Infatti l'articolo che proprio è di Mondo Fox dice che lo shock provocato dai fan ai ritorni di The Walking Dead Dello scorso 24 ottobre ha creato un forte riverbio nel mondo dell'interattim e non solo La violenza scena delle esecuzioni vabbè delle uccisioni di Glenn e Abram Venute per mano di Negan e della sua assedata Lucille È infatti messa sotto processo da Ofcom Società che controlla l'intero mondo della comunicazione negli UK Ok quindi l'Ofcom è appunto una società che controlla l'intero mondo della comunicazione negli UK Quindi può decidere appunto quello che fare se far smettere per esempio la MC di trasmettere The Walking Dead Se far dire di ridurre la violenza la MC Cioè praticamente controlla tutti i servizi di network che ci sono negli UK Stiamo investigando sul season premiere di The Walking Dead 7 Perché conteneva scene troppo violente per essere uno show in prima serata Infatti come vi ho detto insomma l'Ofcom ha deciso di intervenire sotto questo punto di vista Perché dicono appunto che uno show in prima serata non può essere di quel calibro Insomma di quella violenza di quel calibro appunto Quindi secondo me insomma non hanno ragione E ve lo dirò poi in successione Cioè dopo appunto aver letto questo articolo successivamente Però insomma per adesso vi posso anticipare che secondo me insomma Non hanno ragione sotto un certo punto di vista Ma possono averlo in un altro Insomma vabbè andando avanti con l'articolo Semplicemente ovviamente Fox UK si è difesa affermando che già da molte parti troppo cruenti Erano state tagliate dalla versione americana prima di essere trasmessa L'Ofcom però sembra decisa di continuare le indagini Al tal fine di tutelare nel migliore di modi i telespettatori del Regno Unito Ovviamente interviene Michael Kulditz Che sarebbe l'attore che interpreta Abram Che dice appunto Sapevamo tutti che sarebbe successo Era fondamentale che fosse brutale e spiedata Proprio come era Negan quando è stato presentato Era giusto che fosse così Poche storie Questo dice ragazzi Michael Kulditz Sotto un certo punto di vista gli do assolutamente ragione Perché ovviamente la scena doveva essere mostrata Per come lo era insomma Mostrare una scena togliendo tutti i particolari Togliendo l'azione Togliendo il sangue Togliendo quello per cui la puntata è caratterizzata Secondo me sarebbe Il risultato sarebbe stato pessimo Se avessero praticamente Censurato l'intero episodio alla fine Perché l'intero episodio era proprio quello E far capire con la violenza Che chi era Negan E secondo me ce l'hanno mostrato Perché se non ci fossero state quelle scene Magari quella scena di Glenn con l'occhio di fuori Magari la scena di Abram Di tutte queste cose qui Negan non si sarebbe appunto Mostrato come si deve Ecco secondo me Essere conosciuto per com'è insomma Quindi secondo me ragazzi Questa scena è totalmente giustificata L'Ofcom secondo me sta indagando Secondo me in modo sbagliato Perché comunque ragazzi Parliamoci chiaro L'Ofcom si ha il compito di tutelare Ed è giusto Quello lì sono d'accordo Però insomma Tutelare e dire Però che la serie appunto È troppo evidenta Quando alla fine Te lo dice la serie stessa Una serie che si chiama The Walking Dead Cioè The Walking Dead Si chiama questa serie qua Vai a vedere le anticipazioni Vedi che è una serie violenta Insomma che è una cosa Perché lo dovresti far vedere A persone magari che Appunto lo dice anche quando Prima di iniziare la puntata Dice che questa magari scena Potrebbe turbare alcuni telespettatori E sono proprio i telespettatori Che si lamentano Però a mio parere Non sono fan Quei telespettatori Ma sono Cioè I tipici casual Insomma I telespettatori casuali Insomma che Vanno lì per la prima volta A guardare una serie tv Oppure magari si Dicono vabbè The Walking Dead Poi si lamentano appunto Perché c'è troppa violenza Secondo me ragazzi È veramente assurdo Perché io personalmente Se appunto Avessi che ne so Un figlio Che ha 13 anni Che so che magari Gli può dar fastidio Ovviamente non lo faccio vedere Ma questo ragazzi Non spetta l'AMC Perché l'AMC Oppure qualunque altro network Insomma La serie in generale Tutela gli spettatori Dicendo che ovviamente Queste scene contengono violenza Quindi a mio parere È stupido Quello della Ofcom Indagare a caso Su questa cosa Perché ovviamente Possono indagare Quello che vogliono Insomma Però a mio parere Poter censurare Scene di sangue Nella serie Sarebbe veramente Un azzardo assurdo Io spero che non succeda Perché magari La Ofcom Si metta appunto A Insomma A penalizzare la serie Sotto un certo punto di vista Magari decidono Di togliere la violenza Di togliere molto più sangue Di censurare scene Insomma Io spero di no Perché comunque ragazzi La serie è fatta È fatta per questo Cioè io non mi spiego Il perché appunto Ora per un episodio Perché Perché sicuramente ragazzi È stato un episodio solo Che comunque Ha scandalizzato Infatti stanno indagando Sul primo episodio Non su altri Quindi secondo me È stato un episodio E basta Nel senso Non è che adesso Andremo a fare altre Non credo ci saranno Altre scene peggiori di quella Ormai ne abbiamo viste Veramente Troppe in quell'episodio Quindi secondo me ragazzi Cioè non dovrebbero Proprio indagare Sotto questo punto di vista Proprio perché Ovviamente Doveva essere così E basta Come dice Michael Kulditz Quindi è inutile Indagare Inutilmente Su questa cosa qua Fatemi sapere appunto Cosa ne pensate Qui giù nei commenti Se la pensate come me Ovvero che Doveva essere così E basta Come anche dice Michael Kulditz Perché la scena Doveva essere così E basta A chi non sta bene Non si vede più The Walking Dead Questo è il mio parere Ragazzi Perché se Per voi è troppo Violento Non lo guardate E amen Cioè questo io Voglio dire alla fine Comunque fatemi sapere Cosa ne pensate Qui giù nei commenti Il link dell'articolo Lo trovate in descrizione Se vi volete dare un'occhiata Come sempre Spero questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Iscrivetevi Mi raccomando al canale Se non è ancora fatto Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead C'è Teresa Lasciato un mi piace Vi ringrazio per il nome supporto Passate nella pagina Facebook Nel profilo Instagram Tutti i link Li trovate nella descrizione Quindi nulla Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto Dalla Foxy The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti